Ciao Bicis e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei discutere con voi di una notizia che ho letto questa settimana, una notizia bella fresca fresca e quindi con l'arrivo della parte sostanzialmente più malefica e calda dell'estate, quindi fine luglio inizio agosto, è importante rinfrescarsi con delle notizie belle e fresh. In realtà avrei voluto parlarvene in una live, ma fa troppo caldo per fare live, quindi video è bella lì. Che cosa è successo? Stiamo parlando di Black Widow, il ventiquattresimo film targato Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson, uscito un paio di settimanelle fa al cinema e che è adesso sulla bocca di tutti per i motivi sbagliati secondo me. In che senso? Dovete sapere che durante il primo weekend Black Widow in America ha totalizzato un incasso di ben 80 milioni, un incasso niente male, ha persino superato nel primo weekend gli incassi di Fast and Furious 9 che vi ricordo in America è già uscito da un bel po'. Fast and Furious 9 ha incassato 70 milioni, Black Widow 80, quindi un signor primo weekend, contando anche che Disney per la prima volta si è sbottonata anche riguardo agli incassi di Disney Plus Premium Access, perché Black Widow è arrivato in contemporanea sia in sala che su Disney Plus appunto con il biglietto Premium che in America costa 30 dollari mentre in Italia circa 22 euro, beh Disney per la prima volta si è sbottonata riguardo agli incassi su Disney Plus che sono nel primo weekend 60 milioni. Perché dico che Disney per la prima volta si è sbilanciata riguardo agli incassi su Disney Plus? Perché Black Widow è il quarto film arrivato in Premium Access su Disney Plus, il primo è stato Mulan seguito da Raya, poi Crudelia e per ultimo Black Widow. Beh Disney non si era per niente sbottonata riguardo agli incassi di Mulan che si vocifera non essere veramente na merda, non si è sbilanciata neanche per quanto riguarda gli incassi di Raya, stessa cosa anche per Crudelia, anche se comunque il fatto che uscirà un seguito di Crudelia ci fa intendere che bene o male Disney sia rimasta soddisfatta dal progetto. Che cosa significa questo? Significa che quando le cose vanno bene le major, in questo caso Disney, ne parlano, parlano, dicono quali sono gli incassi, quando invece le cose vanno male, invece cercano di mandare tutto in sordina, di passare oltre, ma torniamo a parlare di incassi cinematografici. Perché se è vero che il primo weekend è stato incredibile, uno degli incassi migliori post pandemia, il secondo weekend invece ha avuto una svolta inaspettata. Sia a livello americano che nel resto del mondo, il film con protagonista Scarlett Johansson ha registrato un calo del 67,5%, ossia il calo più drastico nella storia dell'MCU. Quindi, partendo da questo presupposto, sapendo che Black Widow ha incassato soltanto 26 milioni in America, e circa 29 nel resto del mondo, totalizzando un incasso globale di circa 250 milioni di dollari, la domanda sorge spontanea. Che minchia è successo? Facciamoci un po' di domande. È colpa della pandemia? Sì e no. Perché se è vero che moltissimi cinema in tutto il mondo sono ancora a mezzo servizio, in America no. Non è così da un bel po' di tempo, quindi la gente al cinema sta continuando ad andare. Sono mesi che in America è come se non fosse successo niente a livello di pandemia, quindi non credo sia quello. Contando anche che se è vero che Fast and Furious 9, che in America è già ucciso da un bel po', ha ottenuto un incasso leggerissimamente inferiore rispetto a Black Widow nel primo weekend, poi se l'è passata molto meglio negli altri, nei successivi weekend. È quasi arrivato a 600 milioni in tutto il mondo Fast and Furious 9. Quindi, insomma, non credo sia questo. Allora è colpa di Disney Plus e qui entra in gioco la Nato, che non è l'organizzazione internazionale per la difesa, bensì un organo che racchiude tutti gli esercenti americani, tutti i cinema americani, che appunto si sono scagliati contro Disney dicendo che questo calo drastico di Black Widow è dovuto proprio alla pubblicazione di Black Widow su Disney Plus in Premium Access, perché questo ha causato una frammentazione degli incassi e ha anche favorito la pirateria. Sulla questione pirateria ci arriviamo tra pochissimo, ma è effettivamente così? È colpa di Disney Plus? Anche qui mi sento di dire sì e no. Sicuramente il rilascio di Black Widow ha causato alcuni problemi. Ovviamente gli esercenti se la sono presa in quel posto in una maniera incredibile, perché quei 60 milioni che a quanto pare sono diventati 78 nel secondo weekend, gli esercenti non li vedono manco in foto, sono tutti guadagni puri che si becca la Disney. Quindi ci sta che la Nato effettivamente sia leggerissimamente incazzata, ma bisogna anche tenere conto che se è vero che Disney sì è soddisfatta dell'incassi su Disney Plus, secondo me un po' si sta mangiando le mani, perché al cinema sicuramente avrebbero incassato di più e non ci vuole moltissimo a capirlo. Basta fare un piccolo calcolo matematico, ossia se un biglietto di Premium Access costa 30 dollari e una famiglia americana è composta circa da 4 persone, 30 dollari diviso 4, quanti sono? 7 dollari e 50, col cavolo che in America un biglietto al cinema costa 7 dollari e 50, costa molto di più, almeno 10 o 15 dollari, quindi c'è poco da farsi pippe mentali, al cinema avrebbero semplicemente incassato di più, ma così tanto di più sinceramente non credo. E qui arriviamo alla terza possibilità. È colpa della pirateria? È vero, nel momento in cui tu inserisci un film su una piattaforma streaming compare anche magicamente su altre piattaforme un po' meno legali. È anche una notizia ufficiale del fatto che Black Widow sia probabilmente il film più piratato nel periodo della pandemia. E qui mi verrebbe anche da dire grazie al cazzo, è un film facente parte dell'MCU, il franchising più redditizio nella storia del cinema, ci sta anche Game of Thrones, se i tempi della sua uscita era la serie tv più piratata al mondo, ma era comunque la serie tv più vista al mondo, quindi ci sta. E quindi sicuramente la pirateria ha influito negativamente sull'incassi del film, contando anche che in Cina il film illegalmente è già arrivato, mentre in via ufficiale no, e probabilmente non arriverà. Non si sa ancora, anche perché la Cina ragiona in maniera molto particolare, tipo Shang-Chi probabilmente non arriverà in sala, anche Eternals sicuramente non arriverà in sala, quindi lasciamo perdere questa cosa. Ma secondo me non è ancora questa la risposta, non è la pirateria la causa del fallimento di Black Widow. Quindi se non è colpa della pandemia, se non è colpa di Disney+, se non è colpa della pirateria, di chi è la colpa? Beh, secondo me la colpa è di Black Widow. Il film non interessa, non c'è moltissimo basi in rete, non interessando il film, gli incassi non sono esorbitanti. Perché invece nel primo weekend gli incassi sono stati altissimi? Perché durante il primo weekend si sono fiondati tutti i fan Marvel, che non sono tantissimi, sono tanti, ma non tantissimi. Hanno portato tanti soldi nel primo weekend, ma una volta visto il film non è che lo vanno a rivedere cinque volte. È il pubblico generalista che porta guadagni, non i fan. Nel momento in cui al pubblico generalista non frega una mazza fionda di Black Widow, è chiaro che il calo si vede. Per di più Black Widow è un film chiuso, un film che non si affaccia al futuro dell'MCU. I collegamenti sono veramente labili e quindi il passaparola non è stato positivissimo, contando anche che pure chi ha apprezzato tantissimo il film non lo considera uno dei migliori film Marvel. Lo colloca più o meno in mezzo, quindi ribadisco anche il passaparola non è stato incredibilmente grosso. E secondo me è questa la risposta, unendo anche tutti i fattori che sicuramente hanno influito, di cui abbiamo parlato poco fa. Ma adesso la domanda è quale sarà il futuro dell'MCU? Beh, avremo una risposta molto precisa con i prossimi due film, perché sia Shang-Chi che Eternals non arriveranno su Disney Plus in Premium Access, quindi vedremo effettivamente la forza dell'MCU al cinema in maniera totalmente pura. Spider-Man non lo conto perché è un film Sony, non sarebbe mai arrivato su Disney Plus in Premium Access, quindi è un ragionamento a parte. E vedremo anche effettivamente la forza di Premium Access, di Disney Plus Premium Access, con Jungle Cruise, il film con protagonista The Rock ed Emily Blunt, che suppongo sarà l'ultimo esperimento che riguarda il Premium Access, perché tre progetti su quattro sono falliti malamente, quindi se fallisce anche Jungle Cruise forse è arrivato il momento di accantonare il progetto Premium Access, perché quando va bene ti fa guadagnare comunque meno soldi di quello che guadagneresti al cinema, posto che comunque le cifre sono pure, non bisogna dare niente agli esercenti, quindi va bene, ne abbiamo già parlato prima, quando invece va male, e della maggior parte dei casi, perdi un sacco di soldi, quindi non so quanto convenga. Vedremo. In ogni caso, adesso voglio sapere la vostra, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa secondo voi ha causato il calo drastico al botteghino di Black Widow. Sono veramente curioso, io spero di non avervi annoiato, mi rendo conto sia un video diverso dal solito, ma mi andava di farlo così, non in caso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video e seguitemi su Instagram, FabioSantoro98 e su Twitch, Fabio-Santoro. Trovate comunque i link a miei social in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.